Dall'alto delle sfere celesti, ove il cielo si fa sfumature, vibra il verso che parla di bellezza, di quella che non ha eguali nei paragoni. Non è l'estetica a farla da padrona, né il tratto nobile o il viso angelico, ma sono i pensieri gentili a creare, un'aura di luce che avvolge la persona. Può la natura esserle avversa, darle un naso pronunciato o labbra sformate, ma se in lei risiedono pensieri generosi, la sua anima, di luce e cinta e ornata. Come il sole che splende in cielo, così la sua bellezza irradia, fino a raggiungere chi le sta vicino, e conquistarne il cuore con poesia. Ecco perché, o persone gentili, non abbattetevi dal vostro aspetto, piché la vera bellezza è quella interiore, che nessun difetto potrà mai spegnere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.